Allora, questo incontro si chiama Carta Bianca perché quando mi hanno invitato al festival non avevo la più pallida idea di che cosa dire. Quindi Arianna ha detto mettiamo Carta Bianca, il problema è che non lo so nemmeno adesso bene cosa voglio dire. E quindi mi sono portato un po' di ritagli sugli ultimi casi che hanno monopolizzato la cronaca negli ultimi mesi per fare un po' il punto sullo stato clinico direi comatoso dell'informazione in Italia. E però non so da che cosa cominciare, vi dico i titoli, uno è l'ultimo ovviamente, quello si chiamava Trivellopoli, poi ho scoperto che il verbo Trivellare ha dei doppi sensi molto pericolosi. Quindi non si può più pronunciare la parola Trivelle perché ha significati sessuali, ho scoperto, pensate un po' chi l'avrebbe mai detto. Poi c'è il caso di Quarto che a un certo punto era diventata la capitale d'Europa, nessuno sapeva che esistesse il comune di Quarto a parte gli abitanti. Qui c'è il caso dei furbetti licenziati in 24 ore, di cui si parlò molto a Capodanno insieme al tema dello smog e al complotto mondiale degli immigrati a Colonia. Non so se ricordate, poi ci sono un po' di dati su quanto va bene l'economia dell'Italia. E poi mi sono portato un po' di carte a proposito delle grandi riforme. Perché sulle grandi riforme il livello dell'informazione è pari a quello sul referendum not Trive, scusate la parola Trive, con rispetto parlando, chiedendo scusa alle signore, come si diceva una volta, not Trive. Cioè l'informazione è zero praticamente, sia sul referendum not Trive, chiedendo scusa alle signore, sia sulle grandi riforme. E quindi, poi mi sono portato un articolo perché ogni tanto colleziono titoli, cioè cazzate. Questo mi piace molto, vorrei partire da qua. Delitto di Ancona, uccide la madre della fidanzatina e ferisce il padre. Ha sparato otto colpi, ma giura, non volevo ammazzarli. Sembra un cliente dell'avvocato Taormino, dell'avvocato Ghedini, che sono specializzati in alibi autoincriminanti e aggravanti. Io penso che uno che spara otto colpi e dice non volevo ammazzarli, ops, segnali abbastanza bene il fatto che in Italia si può ormai dire qualsiasi cosa. Ieri Paolo Mili ha scritto un pezzo sul famoso simbolo dell'antimafia siciliana montante che è sotto inchiesta per mafia e ha detto forse dovrebbe dimettersi da presidente della Confindustria siciliana essendo sotto inchiesta per mafia. Lui oggi gli ha risposto dicendo non mi dimetto per non fare un favore alla mafia. Voi capite che è molto simile a ha sparato otto colpi, ma giura non voleva ammazzarli. Nel senso che siamo in pieno futurismo, brum brum, bang bang, cioè sono parole in libertà che non hanno più nessuna attinenza con la realtà e questo diciamo è molto aiutato dal sistema dell'informazione. Poi ogni tanto uno prende una cronaca dall'estero e si rincuora un pochino perché pensate l'ingenuità anche, quando uno va negli Stati Uniti si diverte molto perché sull'aereo gli fanno firmare e compilare un questionario in cui le domande sono lei è un terrorista, lei è in possesso di armi di distruzione di massa, nel suo bagaglio ci sono armi atomiche, non credo che nessuno abbia mai risposto sì ma varrebbe la pena farlo semplicemente per vedere la reazione. Però mi hanno spiegato che lì si dà per scontato che è una persona di calaverità, per cui nella campagna elettorale per eleggere il Presidente degli Stati Uniti si fanno dei sondaggi molto ingenui che attengono alla sincerità percepita dei candidati e è risultato recentemente che il 50% degli elettori americani giudicano Hillary Clinton insincera che è un termine che noi non conosciamo, forse non esiste più, insincera, cioè che si è mai posto il problema se un nostro candidato è sincero o non sincero. E' notizia di ieri che nella dichiarazione delle proprietà che buon uso faccia ogni candidato a qualsiasi carica pubblica il candidato Giuseppe Sala a Milano si è dimenticato una villa in Svizzera e non è una battuta mia si è dimenticata, è una battuta sua perché ieri gli hanno detto perché non ha inserito la villa in Svizzera e lui ha detto me la sono dimenticata ma come fa uno a dimenticarsi una villa in Svizzera? Del resto è notizia di ieri, un articolo molto interessante, anzi dell'altro ieri di Gian Antonio Stella in cui si racconta che Macao incassa in turismo più dell'Italia naturalmente Macao è un'attrazione turistica a livello mondiale tutti a Macao, mai più senza Macao Macao è piena di patrimonio dell'umanità proprio e il turismo l'anno scorso è diminuito rispetto a due anni fa e a qualcuno potrebbe venire in mente ma l'effetto Expo? Vi ricordate l'effetto Expo sul turismo? Se nonostante quel poderoso effetto Expo il turismo è calato addirittura nell'anno di Expo forse l'effetto Expo non c'era o forse non è più venuto nessuno a vedere nient'altro e si sono concentrati tutti a vedere quel meraviglioso albero della vita che diciamo fa venire in mente il sesso ben più che non le trivelle perché sembrava un enorme fallo che non so quanti milioni ci è costato e che adesso credo non riusciranno mai a smaltire perché è talmente orrendo che non si riesce nemmeno ad avvicinarci ecco questa questione della sincerità è una questione che dipende direttamente dall'informazione se l'informazione è aggressiva è puntuale, è incalzante tipo Bruno Vespa col figlio di Rina per dare un'idea dell'aggressività che deve contraddistinguere l'informazione è chiaro che chi racconta bugie viene immediatamente sputtanato e quindi si pone il problema della sincerità o dell'insincerità e l'insincerità diventa un handicap in una campagna elettorale io non ricordo che qualcuno si sia mai occupato della sincerità o dell'insincerità dei candidati anzi diamo per scontato che siano dei bugiardi per cui non ci fanno il caldo né freddo se si dimenticano, ops, una villa in Svizzera o se taroccano i dati degli ingressi di Expo oppure se nell'ultimo mese di Expo ci sono delle code interminabili per cui fai 14 ore di attesa prima di visitare il padiglione del Sikkim e poi leggi sul giornale che quello è un segno del trionfo di Expo io di solito quando ci sono code sento gente bestemmiare come i turchi eccetera perché è un segno di disorganizzazione, di fallimento non è un segno di... altrimenti alla posta non vi dico al raccordo anulare di Roma il successone che si raggiunge in certi giorni in cui non si riesce non ho mai visto considerare una coda di 14 ore come un successo e invece è capitato anche questo proprio perché si dà per scontato che il potere menta e che nessuno lo debba disturbare perché se poi qualcuno disturba è un bel problema si crea un pericoloso precedente vi chiedo scusa ma verso le 10 e qualcosa vi chiederò un attimo di pausa perché dovrò controllare la prima pagina del mio giornale se volete magari ve la leggo in diretta quindi partiamo partiamo dalle riforme mi sono portato il testo della riforma costituzionale che consiste in 47 articoli su 139 quindi un terzo si distinguono da quelli della costituzione del 48 per una caratteristica che sono lunghissimi mentre quelli della costituzione del 48 erano molto brevi e mentre nella costituzione del 48 si capiva tutto negli articoli della riforma Boschi-Verdini non si capisce un cazzo veramente non si capisce un cazzo l'articolo 70 attualmente è di 9 parole quello della riforma Boschi-Verdini 363 parole l'articolo 71 oggi consta di 44 parole quello della riforma Boschi-Verdini 171 parole l'articolo 72 aveva 190 parole e adesso ne avrà 379 sembra un regolamento condominiale più che la costituzione repubblicana il bello è che la parola d'ordine del governo che è stata lanciata quando è stata lanciata la campagna per il sì al referendum che si terrà a ottobre è semplificazione io lo trovo meraviglioso dicono l'abbiamo fatta per semplificare per questo che hanno decuplicato il numero delle parole hanno reso incomprensibile ciò che prima era chiaro e cristallino per semplificare poi hanno detto ovviamente sapete no che c'era questo brutto problema che una legge per essere approvata doveva passare prima dalla Camera e poi dal Senato oppure prima dal Senato e poi dalla Camera e questo è brutto perché si creano dei doppioni questo sistema ci ha salvati da un sacco di boiate che la Camera aveva approvato senza accorgersene e che poi se ne sono accorti al Senato o viceversa questo dicono non sarà più possibile perché adesso invece pal colpo secco e via si risparmiano anche un sacco di soldi e di tempo soprattutto perché il problema in Italia è che le leggi sono troppo lente io avevo sentito dire che il problema in Italia è che le leggi sono troppe al punto che non sappiamo quante sono le leggi nessuno è mai riuscito a calcolare il numero esatto delle leggi in Italia si sa quante sono in Germania quante sono in Francia quante sono in Inghilterra da noi non si sa quante siano se ne è perso il conto qualche anno fa il ministro della semplificazione Calderoli si presentò una mattina che era particolarmente su di giri con un lanciafiamme nel cortile del ministero della semplificazione circondato da una montagna di scatoloni e diede fuoco fece un grande falò erano le leggi che aveva deciso di semplificare cancellandole neanche lui sapeva quante erano le leggi non si sa quante ce ne erano in quegli scatoloni non si sa quale effetto legale abbia la semplificazione con l'anciafiamme si scoprì poi che inavvertitamente in quelle leggi semplificate bruciandole era finito per sbaglio il decreto regio che registrava i risultati del plebiscito con cui veniva annesso il Lombardo Veneto al Regno d'Italia quindi da allora sono alcuni anni non si sa esattamente se il Lombardo Veneto faccia ancora parte della Repubblica Italiana oppure se sia tornato all'Iasburgo all'Austria o alla Repubblica Serenissima di Venezia non si è mai capito perché lui l'ha bruciato il decreto di annessione quindi il Lombardo Veneto è lì in bilico quindi di solito le persone raziocinanti sanno che le leggi sono troppe e se sono troppe vuol dire che se ne fanno troppe e se se ne fanno troppe vorrebbe dire bisognerà allentare un po' la produzione legislativa bisognerebbe per semplificarle fare in un altro modo che non il lanciafiamme e riunirle in leggi quadro vedere quello che serve e quello che non serve molte leggi dicono una cosa e altre dicono l'esatto contrario il che crea contenzioso riempie i tribunali amministrativi penali civili perché ciascuno rispetta la sua legge che però è in contraddizione con quella che rispetta un altro ma improvvisamente ci è stato spiegato che il problema dell'Italia è che le leggi sono lente a quel punto l'ufficio studi del senato ha fatto una ricerca e ha scoperto che non è vero niente ogni legge ordinaria con quel brutto sistema camera senato la navetta viene approvata in media in 53 giorni meno di due mesi ogni decreto legge viene convertito dalle due camere navetta camera senato in 46 giorni un mese e mezzo ogni legge finanziaria siccome è più complicata viene sempre con la doppia conforme approvata in 98 giorni due mesi si può fare di meglio ma non mi pare che un tempo di formazione delle leggi che va da un mese e mezzo ai due mesi sia un tempo esageratamente lungo tale da giustificare questo sconquasso della Costituzione però la gente è convinta che le leggi impieghino anni per essere approvata effettivamente ci sono delle leggi che impiegano anni a essere approvate la legge sulle unioni civili attendeva da circa 30 anni di essere approvata nel senso che il primo il primo progetto di legge fu presentato circa 30 anni fa sarà colpa del fatto che abbiamo due camere? no è colpa del fatto che i partiti non erano d'accordo ad approvare quella legge e quindi quella legge non è passata se avessimo avuto una sola camera quella legge avrebbe impiegato esattamente gli stessi 30 anni che ha impiegato ad essere approvata perché? perché è stata approvata quando i partiti hanno raggiunto un accordo mentre prima l'accordo non ce l'avevano non c'era una maggioranza di nessun colore che la volesse approvare infatti si sono alternati tutti i governi possibili immaginabili dagli ultimi 30 anni prima repubblica seconda repubblica pentapartito quadripartito tetrapartito esapartito berlusconi prodi dini d'alema amato amato 2 ri berlusconi ri prodi tri berlusconi un altro amato monti letta e renzi che c'entrano la camera e il senato niente sono i partiti che non si mettono d'accordo fra di loro o al loro interno non c'entra niente il sistema camera senato quando c'è l'accordo camera e senato approvano le leggi in un batter d'occhio quando berlusconi doveva farsi il lodo alfano in 21 giorni ha prodotto il disegno di legge da palazzo chigi l'ha mandato alla camera che l'ha approvato l'ha mandato al senato che l'ha approvato che è arrivato al quirinale dove c'era la penna più veloce del west napolitano e l'ha firmato in men che non si dica firmava tutto anche la lista della spesa qualunque cosa anche il conto della lavandaia vidimava promulgava in continuazione in 21 giorni era sulla gazzetta ufficiale altro che lentezza nella navetta camera senato quando si vuole si fanno le cose di solito quando si vuole le cose sono delle porcate però è la dimostrazione del fatto che non c'entra niente il fatto di avere due camere con la lentezza del procedimento amministrativo e legislativo Finora era brutto questa cosa Camera-Senato per cui adesso si è deciso di semplificare, infatti se oggi per approvare le leggi c'è un solo sistema, la vota un ramo del Parlamento, poi la vota l'altro ramo del Parlamento, se è uguale è finita, se non è uguale ritorna fino a quando la approvano uguale tutte e due le volte. Questo è l'unico sistema di approvazione delle leggi, di promulgazione dei decreti, di conversione dei decreti, eccetera. Adesso per semplificare e quindi per risparmiare un sacco di tempo hanno pensato 12 sistemi diversi di approvazione delle leggi e la semplificazione, si moltiplica per 12 il sistema. Il bello è che tutti e 12 i nuovi sistemi che sostituiscono quell'unico che c'era prima prevedono il passaggio della legge dalla Camera al Senato. Uno dice ma che siete matti? Ci avete detto che finiva la navetta, che il problema era la navetta, la navetta resta solo che segue 12 percorsi diversi. E guardate che questa leggenda della semplificazione e del risparmio di tempo, oltre che di denaro, non l'ha detta uno qualsiasi, l'ha detta il nostro Presidente della Repubblica in una delle rarissime sue esternazioni. Sapete che per sentirlo parlare all'inizio si pensava fosse muto, ma ogni tanto qualche monosillabo è stato negli Stati Uniti. Gli studenti gli hanno detto, è vero che in Italia ci sono molti parlamentari inquisiti. Lui ha risposto, non mi risulta che molti parlamentari sono indagati. Ce ne sono solo alcuni, sono delle eccezioni. In effetti erano 42 quando si è aperto il Parlamento, oggi sono una novantina, sono il 10%. Pochi ancora, secondo Mattarella. Si può fare di più, però ci sono altri due anni di legislatura, non poniamo libidi alla provvidenza, magari si arriva a 200, puttacaso, sarebbe un bel record. Poi un altro studente gli ha chiesto della riforma della Costituzione e lui ha risposto, influirà sull'efficienza e sulla velocità delle decisioni, sulla capacità di governare i problemi quando nascono e non dopo. Porterà un significativo recupero di efficienza e di competitività per il nostro Paese. Eh già. Infatti da un metodo legislativo passiamo a 12. Ve li riassumo. Avete diritto anche voi a un po' di svago e quindi... Primo, leggi costituzionali. Il sistema rimane identico. Bicameralismo perfetto, Camera-Senato. Non si capisce per quale motivo il Senato, che non sarà più eletto, ma nominato dai consigli regionali e formato da consiglieri regionali e sindaci che vanno a fine settimana a fare il dopolavoro a Roma e nel tragitto tra la loro città e Roma vengono investiti dalla grazia divina e coperti dall'immunità parlamentare che non gli spetta in qualità di sindaci e di consiglieri regionali ma nell'avvicinarsi a Roma una sorta di scudo spaziale li avvolge per cui l'importante è che delinquano lontano dalla loro città e non gli si può più fare niente come se fossero dei parlamentari eletti. Quindi non si capisce con quale legittimità questi signori mai eletti, insalutati ospiti che arrivano in Senato dovrebbero mettere becco nelle riforme costituzionali che in teoria dovrebbero appartenere ai rappresentanti del popolo e questi il popolo manco lo conoscono perché il popolo non sa che leggendo un sindaco o un consigliere regionale quello poi gli va a fare anche il senatore nei ritagli di tempo come adesso uno va a giocare a bocce quando ha finito di lavorare questi andranno a fare i senatori solo che se giochi a bocce non hai l'immunità se vai a fare il senatore ce l'hai quindi conviene poi Roma è bella è un bel weekend devo dire quindi il primo sistema quello delle leggi costituzionali rimane identico Camera, Senato ciascuno vota con parità di diritto eccetera lì non si muove foglia e questo è il primo sistema secondo leggi ordinarie qui viene il bello guardate che ci vuole dell'impegno ci vuole dello studio ci vuole del talento per inventare un sistema così è entrato in funzione l'ufficio complicazione affari semplici e si è scatenato la Boschi ne è il capo non so se si può dire Boschi o se è sessismo comunque se non si può dire mi scuso preventivamente per le leggi ordinarie caos più assoluto allora l'approvazione spetta alla Camera ma il Senato può ancora dire la sua la Camera approva e poi trasmette la legge a Palazzo Madama qui entro dieci giorni se un terzo dei membri ne fa richiesta il Senato riesamina il testo e questo è il secondo sistema terzo che succede se un terzo dei senatori in quei dieci giorni chiede di riesaminare il testo? attenzione due opzioni dopo che l'hanno esaminato i senatori possono decidere che gli sta bene come ha deciso la Camera è lì morta lì oppure possono decidere di emendare la legge cioè di cambiarla e hanno trenta giorni per farlo quarto se vogliono emendare la legge in quei trenta giorni la legge che hanno modificato torna alla Camera doppia navetta obbligatoria la Camera ha l'ultima parola però deve dirla entro venti giorni attenzione bisogna segnarsela queste cose perché sarà complicatissimo se uno sbaglia i trenta coi venti coi dieci sono cazzi venti giorni quinto sistema la Camera a questo punto può accogliere e confermare gli emendamenti del Senato sesto sistema la Camera può decidere che non gliene frega niente degli emendamenti del Senato e ignorarli ripristinando dunque il testo originario che la stessa Camera aveva mandato al Senato per poterli ignorare gli emendamenti del Senato la Camera deve votare a maggioranza semplice attenzione la metà più uno dei presenti in aula settimo sistema leggi in materia di autonomie territoriali e di trattati internazionali qui il Senato ha di nuovo dieci giorni per esaminarle e decidere di cambiarle oppure di ignorarle e se decide di cambiarle altri trenta giorni per fare gli emendamenti ma attenzione perché ottavo sistema se non tocca nulla il Senato la legge passa così come gliel'ha mandata la Camera nono sistema il Senato la cambia a quel punto torna alla Camera di nuovo doppia navetta obbligatoria cosa fa la Camera? può decidere di cancellare gli emendamenti che ha fatto il Senato oppure di recepirli ma stavolta, badate bene non basta più la maggioranza semplice della Camera ci vuole quella assoluta la metà più uno degli eletti non dei presenti in aula decimo sistema legge di bilancio cioè la finanziaria ITER ancora più demenziale qui siamo al triplo salto mortale carpiato con avvitamento la Camera approva la legge di bilancio poi la gira al Senato vedete che Camera e Senato continuano a mandarsi la legge almeno una volta se non due quando arriva al Senato il Senato vota se vuole modificarla stavolta attenzione non ha dieci ma ha quindici giorni signori mi voglio rovinare di tempo per modificarla ma attenzione se la cambia in quei quindici fatidici giorni bisogna vedere con che maggioranza la cambia perché se la cambia il Senato con maggioranza semplice quando poi torna alla Camera la Camera può cambiare i cambiamenti che ha fatto il Senato a maggioranza semplice a sua volta viceversa undicesimo sistema se il Senato modifica la legge di bilancio a maggioranza assoluta la Camera che la riceve già cambiata deve avere la maggioranza assoluta per cambiare i cambiamenti e modificare le modifiche ed emendare gli emendamenti ma attenzione dodicesimo e ultimo sistema il rebus la settimana enigmistica se alla Camera c'è solo una maggioranza semplice che vuole respingere gli emendamenti fatti dai senatori a maggioranza assoluta e se alla Camera c'è una maggioranza assoluta che vuole cambiare solo alcuni articoli cambiati dal Senato a maggioranza assoluta e altri no che si fa mistero passano solo alcuni articoli della legge di bilancio e non altri chi vince alla fine tra il Senato che si è espresso a maggioranza assoluta e la Camera che non riesce più a trovarla perché sono impazziti tutti mistero di queste quisquiglie la riforma costituzionale non si occupa si va a cazzo diciamo così questo è il recupero di efficienza di brevità di velocità di rapidità per cambiare l'Italia parola del nostro Presidente della Repubblica vi volevo ancora raccontare due cose che riguardano la prosa perché questa è la Costituzione della Repubblica Italiana e la Costituzione della Repubblica Italiana è proprio il minimo dovrebbe essere scritta in italiano l'idioma con cui è stata scritta è misterioso incerto forse non indoeuropeo direi cuneiforme ho qui il testo guardate che bella copertina superamento del bicameralismo paritario e revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione di DL Cost AC2613B e AB testo a fronte ecco l'errore l'errore drammatico commesso dai nostri riformatori i costituenti i ricostituenti mettere il testo a fronte cioè farci vedere sinotticamente come scrivevano i padri costituenti del 48 e come scrivono quelli di oggi per segnalare l'involuzione della specie impicchiata no no aspetta adesso vi faccio faccio due esempietti no le dico queste cose perché dubito che nei prossimi mesi di qui a ottobre avrete molte occasioni di sentirne parlare articolo 55 oggi quello del 48 quello di quei cialtroni dei padri costituenti 29 cazzari il parlamento si compone della camera dei deputati e del senato della repubblica fine semplice comprensibile nuovo articolo 55 i ricostituenti all'opera il parlamento si compone della camera dei deputati e del senato della repubblica non sono riusciti a guastarla ci hanno provato poi l'hanno lasciata però hanno aggiunto alcune cosette le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle camere promuovono l'equilibrio tra le donne gli uomini e la rappresentanza ciascun membro della camera dei deputati rappresenta la nazione la camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il governo ed esercita la funzione di indirizzo politico le funzioni legislative e quello del controllo dell'operato del governo segue emendamento il senato della repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo stato e gli altri enti costitutivi della repubblica concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi secondo le modalità stabilite della costituzione nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo stato e gli altri enti costitutivi della repubblica e l'unione europea sembra che si siano sbagliati perché c'è scritto due volte esercita funzioni di raccordo tra lo stato e gli altri enti costitutivi della repubblica e nel giro di sei righe l'hanno scritto due volte così abbondiamo ad abundanza caso mai uno non avesse capito la prima volta ripetita Juvent partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e alle politiche dell'unione europea valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni verifica l'impatto sulle politiche dell'unione europea sui territori concorre ad esprimere pareri sulle nomine e competenze del governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello stato fine ipossia ricovero immediato in ospedale ma questo è uno dei più brevi dei più tacitiani dei più cristallini nuovo articolo 56 il senato scusate 57 il senato della repubblica è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali sono quelli nominati dai consigli regionali e da 5 senatori che possono essere nominati dal presidente della repubblica possono se li vuole nominare qualcun altro si faccia avanti se non si fa avanti nessuno li nomina il presidente della repubblica costituzione molto aperta i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano non era mai capitato alle province autonome di Trento e Bolzano di avere questa notorietà sono citate continuamente in quasi tutti gli articoli perché non sono non sono regione sono doppia provincia quindi ogni volta bisogna citare Trento e Bolzano eleggono con metodo proporzionale eleggono i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e Bolzano eleggono con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti quindi i consigli regionali eleggono senatori dei consiglieri regionali e nella misura di uno per ciascuno fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori quindi i consigli regionali eleggono i senatori tra i propri componenti e tra i sindaci ok nello stesso articolo un po' più avanti c'è scritto la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma la supercazzola prematurata con scappellamento a destra nello stesso articolo ripeto il 57 fenomenale andrà scritto in rosso per distinguerlo dagli altri perché è roba da manicomio c'è scritto prima che i senatori sono eletti dai consigli regionali tra i consiglieri regionali e tra i sindaci nello stesso articolo c'è scritto che sono scelti dagli elettori nel momento in cui gli elettori votano i candidati consiglieri regionali la domanda è ma chi cazzo li sceglie sti senatori li eleggono gli elettori o li scelgono i consigli regionali bu è la stessa legge che si autonega che si autosmentisce è il veleno con l'antidoto incorporato è una cosa è una cosa inimmaginabile salti logici memorabili del resto ci si sono messe a boschi e verdini è mica due pirla qualunque ora può essere che alla fine faccia una legge elettorale sulle regionali per cui chiedano agli elettori chi vuoi di questi candidati consiglieri regionali che poi vada a fare anche il dopolavoro di senatore chi vedi adatto per questo doppio ruolo sappi che ci avranno l'immunità quindi meglio gli inquisiti no? ma quelli che invece diventano senatori perché fanno i sindaci come fanno a essere scelti dagli elettori visto che qua c'è scritto inconformità ma il cavolo è finito perso inconformità con le scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri e i sindaci quindi li nomina sicuramente il consiglio regionale e allora in che conformità è? di che stanno parlando? è un mistero non è una cosetta da niente non sapere nella costituzione se il senato lo eleggiamo ancora noi o se lo nominano loro l'articolo 68 quello sull'immunità parlamentare è identico ovviamente non l'hanno cambiato anche se i senatori non sono più eletti restano immuni come vi ho spiegato prima concludo con questa prosa meravigliosa che va letta tutta ad un fiato è l'articolo 70 la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere per le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concedenti la tutela delle minoranze linguistiche riferendo un popolare le altre forme di consultazione di quello articolo 71 per le leggi che determinano l'ordinamento della legislazione elettorale gli organi di governo le funzioni fondamentali dei comuni delle città metropolitane e le disposizioni di principi sulle forme associative dei comuni per le leggi che stabilisce le norme generali le forme i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione dell'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea per quella che determina i casi di inelegibilità e incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui l'articolo 65 è primo comma per le leggi di cui gli articoli 57 e 6 comma 80 secondo periodo 114 terzo comma 116 terzo comma 117 quinto e nono comma 119 sesto comma 120 secondo comma 122 primo comma 132 secondo comma le stesse leggi ciascuna con oggetto proprio derogate solo in forme espresse da leggi approvate a norma della presente comma punto le altre leggi sono approvate dalla Camera dei Deputati punto ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che entro dieci giorni su richiesta di un terzo dei suoi componenti può disporre di esaminarlo nei 30 giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione al testo sulle quali la Camera dei Deputati si pronuncia in via definitiva qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame sia inutilmente decorso il termine per deliberare ovvero quando la Camera dei Deputati sia pronunciata in via definitiva la legge può essere promulgata l'esame del Senato per le leggi che danno attuazione all'articolo 117 quarto comma è disposto nel termine di 10 giorni della data di trasmissione per i metesimi disegni di legge la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti disegni di legge di cui l'articolo 81 quarto comma approvati dalla Camera dei Deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare le proposte di modificazione entro 15 giorni dalla data di trasmissione i presidenti delle Camere decidono di intesa fra loro le eventuali questioni di competenza sollevate secondo le norme dei risultati regolamenti il Senato della Repubblica può secondo quanto previsto dal proprio regolamento svolgere attività conoscitive e nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei Deputati punto e fine questa è la questa è questa è la riforma costituzionale che ci semplificherà la vita e sono soddisfazioni passiamo a un altro tema che è quello di come viene trattata la cronaca che spesso ci riserva anche degli scandali a seconda di chi ne sono i protagonisti però mi levo la camicia perché già sono sodatissimi mi faccio aiutare per introdurre il tema da una bellissima frase di Carlo Goldoni che un giorno descriveva la macchina del mondo nuovo era una macchina che veniva usata dagli imbonitori ambulanti in piazza per colpire la fantasia di chi li vedeva no? e oltre alla donna cannone a mangiafuoco e altri fenomeni da baraccone c'era anche la macchina del mondo nuovo era uno scatolone così lo descrive Goldoni illuminato da candele accese con delle figure dipinte su lastre di vetro che la gente vedeva in movimento e si illudeva di assistere a fatti accaduti a migliaia di chilometri era una specie di cartone animato era una specie di animazione di un fatto che si voleva raccontare anche con immagini e Goldoni commentava un'industriosa macchinetta che mostra all'occhio maraviglie tante ed in virtù degli ottici cristalli anche le mosche fa parer cavalli nel senso che se la mosca la ingrandisce un po' sembra un cavallo se il cavallo lo rimpicciolisce un po' sembra una mosca e a proposito di mosche e cavalli a me ha molto colpito la copertura mediatica che ha avuto il caso di quarto di cui vi parlavo prima mi sono portato qua una cartellina e voi vedete quante aperture di prime pagine di giornali sono dedicate a quarto UFRM5S il sindaco resiste a Grillo l'unità 5 stelle ha iniziato il crollo Grillo si sgonfia la parabola di Roberto Fico isolato dai 5 S attaccato dagli altri sempre l'unità ancora l'unità fallimento ai 5 stelle messaggero Capuazzo lascia ha vinto la camorra ancora l'unità dalla mafia all'antimafia libero stampa repubblica potrei andare avanti così per tutto quest'altro malloppo sono circa due mesi di titoli che vanno spesso in prima pagina e spesso in apertura di prima pagina che cosa è successo a quarto forse ce lo ricordiamo tutti forse no in un comune di 40.000 abitanti alle porte di Napoli si vota l'anno scorso si presentano ovviamente tutti i partiti ma le liste del PD vengono bocciate perché presentate con delle irregolarità c'è un capobastone locale non stiamo parlando di Raffaele Cutolo o di Schiavone Sandokan stiamo parlando di un capobastone famoso per il racket dei funerali il quale ha un certo numero di voti e decide di portarli al PD dopo aver sostenuto per anni il centrodestra che adesso è estinto dato che le liste del PD vengono annullate prevedendo che vinceranno i 5 stelle per abbandono praticamente di tutti gli altri decide di far confluire i suoi voti ai 5 stelle per poi riuscire o cercare di chiedere qualcosa in cambio dopo le elezioni nel frattempo mentre fa campagna per i 5 stelle fa avvicinare da un suo amico del PD che non ha potuto ricandidarsi perché non sono andate a buon fine le liste di avvicinare uno dei 5 stelle che lui conosce che si chiama mi ricordo più del derobbio e che infatti diventa il candidato prediletto dal capo bastone e si becca 955 preferenze e risulta il più votato nel nuovo consiglio comunale questo derobbio che sa di essere stato votato con l'aiuto del capo bastone comincia per conto del capo bastone a premere sulla sindaca a Roma capozzo rosa capozzo perché faccia dei favori al capo bastone favori che consistono nell'affidare a una ditta amica del capo bastone il campo sportivo locale e nel fare alcune nomine a lui gradite la sindaca non ci sta e allora lui minaccia di far uscire delle notizie delle fotografie che riguardano un sottotetto abusivo nella casa del suocero della sindaca dove vive anche la sindaca la sindaca se ne frega anche di quelle di quel ricatto non dà al consigliere del suo partito amico del capo bastone quello che vorrebbe e però non denuncia l'estorsione di cui è vittima e questa estorsione però la scoprono i magistrati che interrogano Rosa Capozzo indagano il consigliere De Robbio per estorsione per tentata estorsione De Robbio che è in lite con la Capozzo è già stato espulso all'uscita dei primi sospetti su di lui prima ancora che venga indagato è stato espulso subito dai 5 Stelle poi viene interrogata Rosa Capozzo lei dice io non mi sentivo estorta quindi non ho denunciato il ricatto io non mi sentivo ricattata semplicemente c'era questo grosso scontro con questo De Robbio a quel punto il fatto che non abbia denunciato o abbia sottovalutato essendo poi un'avvocatessa quindi è una che ha tutti gli strumenti per capire queste cose il ricatto viene anche lei espulsa con qualche giorno di ritardo dal Movimento 5 Stelle soprattutto dopo che a chiedere le dimissioni della Capozzo sono intervenuti non soltanto il mio giornale ma soprattutto Roberto Saviano a quel punto la Capozzo non se ne vuole andare viene espulsa dal Movimento 5 Stelle resiste poi dice che se ne andrà poi ricambia idea e rimane e oggi capeggia una giunta formata da tutti gli ex 5 Stelle che sono stati tutti espulsi per averla sostenuta e da Forza Italia la giunta di Rosa Capozzo è viva e lotta insieme a noi a quarto oggi mentre vi sto parlando ma nessuno più parla del caso di quarto perché perché le persone che la governano sono le stesse ma non sono più 5 Stelle adesso sono ex 5 Stelle e Forza Italia e quindi chi se ne frega c'era chi voleva lo scioglimento per mafia c'era chi voleva mandare i parà chi voleva mandare i caschi blu chi voleva mandare l'esercito a fidanza l'esercito della salvezza le soffragette qualunque cosa improvvisamente scompare quarto dall'orizzonte è servita per due mesi per far dire non so se ve lo ricordate ma Renzi un giorno andò in televisione e disse adesso i 5 Stelle la smetteranno di dire che sono meglio degli altri sono come gli altri e sono belle soddisfazioni cioè non gli è neanche venuto in mente di dire noi siamo meglio di loro anche perché gliene arrestano uno ogni 5 minuti però è riuscito a dire loro sono come noi perché a quarto avevano avuto un consigliere comunale che aveva preso 955 voti di cui la gran parte da un capo bastone che si occupa del racket dei funerali delle pompe funebri e che è naturalmente a piede libero non è che sia stato arrestato o condannato per cui chiamarlo boss ci si becca una querela e bisogna pure pagargli i danni era un caso ininfluente assolutamente no era un caso grave era un caso in cui si dimostrava che la selezione della classe dirigente dei 5 Stelle era stata molto deficitaria avevano scelto un consigliere che non andava bene e avevano scelto una sindaca evidentemente non all'altezza della situazione e come si è comportata lo dimostra hanno sottovalutato il caso c'erano stati degli allarmi non se ne sono occupati l'hanno lasciato incancrenire quindi era un caso da raccontare era giustissimo raccontarlo non era il caso più importante dei mesi di gennaio e di febbraio durante i quali è successo di tutto ma pochi ne hanno avuto contezza perché appunto i riflettori erano puntati solo sempre ed esclusivamente su quarto la mosca che diventa cavallo per evitare che si vedano altri cavalli e non sto qui a raccontarveli insomma ci sono scandali quotidiani che coinvolgono i partiti e che naturalmente vengono trattati con una copertura mediatica che non è nemmeno l'infinitesima parte di quella che ha avuto quarto fermo restando che poi quarto quando questi sono stati cacciati dai 5 stelle non interessavano più per cui il fatto che stanno continuando a governare le stesse persone con l'appoggio di Forza Italia non interessa più né il centrodestra né il centrosinistra e questo era un caso un altro caso è quello dei dati dell'Istat a ogni fine mese da un anno a questa parte cioè da quando è stato approvato il Jobs Act noi abbiamo titoli come questi lavoro a marzo 92.000 posti in più boom dei nuovi contratti 92.000 posti in più più assunzioni e posti fissi a marzo 92.000 nuovi contratti l'Italia riaccende i motori pil più 3% a Melfi l'asserenzi marchionne e arrivano altre mille assunzioni occupazione ad aprile 210.000 contratti in più signori salgono i contratti stabili ad aprile 48.000 in più visco la ripresa è avviata il Jobs Act dai primi frutti ma le riforme non si fermino la spinta di visco la ripresa c'è ora le imprese facciano di più lavoro ad aprile 48.000 posti fissi in più lavoro in aprile 210.000 contratti in più Italia meglio del previsto crescerà di più Poletti i contratti stabili sono aumentati Renzi possiamo crescere più degli altri Italia fuori recessione e deflazione posto fisso boom di contratti 91.000 in più aumentano i posti di lavoro cresce l'occupazione anche per i giovani in un mese 159.000 posti in più signori il lavoro cresce Renzi apre il dialogo cazzo c'entra la prima frase con la seconda non si sa comunque Jobs Act eppur funziona IMS in tre mesi oltre 600.000 assunti signori mi voglio rovinare dalla fiat alle piccole imprese la prima ondata di assunzioni transennavano proprio le strade queste ondate assunzioni anche a opista assunzioni 155 milioni in più grazie gli incentivi signori col Jobs sacchi contratti stabili sono quasi raddoppiati acciaio edilizia e moda riparte l'export italiano 3 miliardi in più petrolio e auto 3 miliardi in più boom possibile boom attenzione possibile boom possibile la ripresa ai conti pubblici in un anno 325.000 occupati in più senza lavoro all'11,9 io facendo la somma di tutti quegli occupati in più di prima ero già arrivato a circa 3 miliardi di persone invece poi in un anno 325.000 che comunque parecchi creati 69.000 posti fondo monetario per l'Italia crescita più alta può fare meglio della Germania fondo monetario il PIL mondiale rallenta ma l'Italia cresce un po' di più la disoccupazione ai minimi dal 2013 cala anche fra i giovani poi c'è una stampa umoristica bentornata fiducia Natale ripartono le spese lavoro gli inattivi a quota 3.600 milioni che secondo loro erano pochi Natale consumi rialzo 8 anni Istat più redditi e consumi riparte la corsa al mattone sfrenata proprio c'era la testa disoccupazione mai così bassa al 2012 satira mezzo milione di contratti in più signori mezzo milione e anche una batteria di pentole antiaderenti in omaggio più disoccupati ma creati 103 questi sono titoli meravigliosi cresce contemporaneamente l'occupazione e la disoccupazione signori sono i miracoli attenzione studio banca italia il lavoro riparte per il job act questi vedete tutti sono meravigliosi attenzione credevate che l'unità esagerasse con quel mezzo milione 764 mila posti in più signori eccoli qua anzi 510 mila la disoccupazione scende all'11 e 3 il minimo negli ultimi tre anni meno licenziati di un anno fa malgrado la fine dell'articolo 18 meno licenziamenti più posti fissi torna la crescita dopo tre anni Renzi e Mattarella scuotono l'Europa non se n'è più riavuta l'Europa da quando sono arrivati ora la crescita cazzo Renzi nessuna paura l'Europa l'Italia crescerà da gennaio 371 mila contratti in più chi offre di più signori torna la fiducia mai così alta da 13 anni l'Italia non è incurabile dice Mattarella in uno dei suoi accessi di ottimismo più sfrenati poi purtroppo finiscono gli incentivi e si capisce di che cosa stavamo parlando stavamo parlando del fatto che il governo ha messo 12 miliardi di euro per pagare all'impresa i costi delle assunzioni per cui l'impresa assume tanto paga il governo cioè paga pantalone ben sapendo che può licenziare quando le pare perché perché il posto fisso non è più fisso da quando col Jobs Act è stato abolito l'articolo 18 si può licenziare con qualsiasi pretesto e non si va più davanti al giudice quando vi dicono contratti precari e contratti fissi non c'è più la stessa differenza che c'era prima perché sono diventati precari anche quelli fissi solo che quelli fissi te li paga lo Stato allora ci sono trasformazioni dal precario al fisso che però non è fisso per cui adesso che non ci sono più gli incentivi o decrescono cominceremo ad avere i licenziamenti di tutti quelli che sono stati assunti semplicemente per arraffare gli incentivi i veri nuovi posti fissi in un anno di Jobs Act sono 110.000 che sono meno di quelli nuovi posti fissi che c'erano stati l'anno prima senza il Jobs Act il resto sono trasformazioni come vi ho detto di gente che aveva già il contratto precario e che ne avrà uno altrettanto precario che però adesso chiamano fisso e sono gli effetti a rimbalzo della vecchia legge Fornero del 2012 che manda la gente in pensione più tardi infatti i posti che crescono riguardano gli ultracinquantenni mentre diminuiscono quelli dei giovani certo se chi andava prima in pensione a 63 anni adesso ci va a 68 per dire è ovvio che ci sarà una quota paritaria di giovani che non entreranno più nel mondo del lavoro visto che chi se ne doveva andare 5 anni prima adesso se ne andrà 5 anni dopo ok era tutto abbastanza prevedibile allora abbiamo questi titoli così un po' mesti occupati in calo a febbraio frena l'effetto incentivi occupati in discesa meno 97.000 a febbraio i nuovi timori del governo rischio decrescita il 2016 la paura poi c'è Padua meraviglioso dopo gli attentati del Belgio di Parigi anzi scusate dice la paura del terrorismo può pesare sulla crescita ecco è colpa degli attentati di Parigi se il Jobs Act non funziona come loro avevano guardate che hanno una bella faccia non vi dico da cosa da Trivelle e l'Italia cresce meno del previsto abuso voucher eh già ci sono un sacco di voucher con lavoro in affitto che stanno esplodendo strano perché avevano detto che sarebbero spariti produzione e lavoro l'Italia avanti piano Renzi taglia le stime del PIL occupazione e crescita troppo lenta tornano a crescere disoccupati lavoro il calo dei giovani occupati fine delle balle atterraggio sulla terra ferma voi direte e non si poteva prevedere no c'era chi lo aveva previsto c'era chi lo aveva previsto che drogare il mercato con gli incentivi non crea posti di lavoro in quanto c'è un bisogno di lavorare per produrre qualcosa il problema è che non si assume non perché non ci sono gli incentivi non si assume a perché il costo del lavoro è troppo alto b perché non si sa a chi vendere in quanto i consumi sono fermi e i consumi sono fermi perché la gente guadagna poco sia che abbia un lavoro dipendente sia che abbia una pensione i salari sono i più bassi d'Europa tra i più bassi d'Europa siamo l'unico paese con la Grecia a non avere un riedito minimo chiamatelo di cittadinanza chiamatelo come volete e invece di detassare il lavoro si sono presi 12 miliardi li si è buttati dalla finestra semplicemente per drogare i dati per qualche mese e far credere alla gente un boom una ripresa che di fatto non c'è perché è estrogenata è dopata finito il doping ricominci ad andare ad andatura naturale e hai smesso di correre ed è quello che è successo adesso però abbiamo 12 miliardi in meno nelle casse dello Stato 12 miliardi in meno 12 miliardi buttati per creare 110.000 nuovi posti fissi di lavoro fate voi il calcolo quanto è costato ogni posto di lavoro 12 miliardi diviso vogliamo fare 120.000 benissimo quanto è costato un posto di lavoro 12 miliardi 120.000 togli i tre zeri togli i tre zeri vengono 12 milioni 120 togli ancora uno zero viene un milione 12 voi capite che ogni posto di lavoro è costato 100.000 euro tanto valeva prenderli e darglieli invece di dargli agli imprenditori e poi se li sono messi in tasca ma vi rendete conto vi rendete conto in che mani siamo e come è facile manipolare l'informazione per un anno è andata avanti questa disinformazia sistematica alla fine di ogni santo mese e chi alla fine di ogni santo mese si permetteva di dire guardate che non è vero guardate che state scambiando i dati guardate che state taroccando le cifre guardate che è tutto drogato guardate che sta per finire guardate che poi il boomerang ritorna indietro era un gufo un disfattista che non vedeva il nuovo boom faccio ancora un paio di esempi e poi ci salutiamo a capodanno noi eravamo bombardati da tre notizie la prima notizia è che finalmente il governo con la legge Madia avrebbe licenziato i fanulloni i furbetti del cartellino come venivano chiamati entro in oltre 48 ore quanto è andato avanti quel battasci mi ricordo ogni volta si accendeva c'erano i furbetti del cartellino e c'era il povero Brunetta che sbraitava inascoltato dice ma veramente ho già scritta io quella norma ma non dice che li puoi licenziare in 48 ore perché nessuno può essere licenziato in 48 ore prima devi dimostrare che è un furbetto del cartellino o che è un assenteista gli devi dare il modo di difendersi quindi è impossibile licenziare uno in 48 ore si può togliere il posto di lavoro uno in 48 ore prima devi dimostrare che è un assenteista niente Amadia assicurava Amadia è un ministro non è l'unica che non sa letteralmente che cosa fa lei stessa non conosce le leggi che lei scrive inizialmente si era detto che la legge era già in vigore in realtà non era stata neanche presentata era una slide molto spesso capita che si scambino le slide per leggi perché c'è una prassi abbastanza tipica di questo governo devo dire fanno i consigli dei ministri che durano tre minuti tre minuti e mezzo al massimo parla solo uno indovinate chi meno male con l'ambientino che c'è nel governo non so se avete letto le intercettazioni della Guidi c'è quello che lo mette in culo quell'altro è una faccia di merda quello si fa solo i cazzi suoi quello sta facendo un dossier per ricattare quell'altro non stanno tutti al governo quello l'ha messo lì la lobby quello l'ha messo lì il quartierino quello l'ha messo il clan e mica perché è bravo questo viene fuori dalle intercettazioni della Guidi un ambientino meraviglioso sembra Chicago anni 30 però cioè se uno legge se uno legge le intercettazioni di mafia capitale e le intercettazioni dello scandalo dei petroli quando parlano carminati buzzi eccetera c'è una certa nobiltà d'animo rispetto a quando parlano i ministri e i sottosegretari gli uni degli altri quindi meno male che il governo non si riunisce quasi mai e quelle rare volte si riunisce per tre minuti se no finirebbe a schifio li troverebbero sgozzati come nei film di mafia di Al Capone uno che passa lì con la mazza come avete presente De Niro nei panni di Al Capone con la mazza da baseball quindi tre minuti e mezzo parla solo uno poi lui fa la conferenza stampa a volte ci sono delle decorazioni di ministri o ministri intorno dicono mai una parola e lui col mento volitivo con quei tre quattro menti volitivi che gli sono venuti nel frattempo e che mostra delle slide mostra delle slide i giornali il giorno dopo scrivono subito licenziati i furbetti del cartellino per cui la gente inavvertitamente ci si affeziona a questa cosa e pensa che sia effettivamente in vigore una norma che in 48 ore licenzia i furbetti del cartellino in realtà poi si scopre che il consiglio dei ministri non ha mai formalizzato alcun testo di questa norma che infatti era una slide di solito ci sono dei disegni ci sono dei pesciolini rossi dei funghetti sembrano quei disegni che mettono ai bambini dell'asilo per fargli vedere fungo laghetto papera il livello è quello uguale c'è la slide con un disegnino lui dice licenziamo adesso mica stiamo qui a pettinare le babbole noi licenziamo in 48 ore slide la gente dice cavolo però ho fatto la legge vedi la velocità proprio qui cambia l'Italia e in realtà non c'è mai un testo per cui noi in redazione abbiamo sempre delle difficoltà perché chiediamo poi agli uffici dei ministeri ci mandate il testo della legge ma non c'è nessun testo quale testo c'è solo la slide certo è il ritorno della tradizione orale è il ritorno di Omero Omero esiodo non c'è il testo non è che manca che è il decreto attuativo non c'è il testo non inizia nemmeno l'iter perché a un certo punto si è scoperto che quella norma per licenziare entro e non oltre le 48 ore i furbetti del cartellino semplicemente non c'è e se ci fosse sarebbe incostituzionale perché non si può togliere il lavoro a uno senza avergli dato la possibilità di difendersi ci mancherebbe altro da 48 ore a 10 anni o 12 anni quanto dura la giustizia insomma ci sarà una via di mezzo 48 ore è impossibile comunque nessuno si preoccupi non esiste la legge c'è la slide in base alle slide nessuno ha mai licenziato nessuno l'altro tema che era molto in voga nei giorni di Capodanno era lo smog vi ricordate c'era questo problema inedito per le grandi metropoli italiane se non piove aumenta lo smog una cosa viene scoperta ciclicamente ogni volta che non piove e dato che i nostri amministratori pubblici sono molto fantasiosi quando non piove sale lo smog cosa fanno chiudono il traffico la domenica cioè l'unico giorno in cui non c'è nessuno in macchina loro vietano le macchine infatti lo smog non scende allora fanno le targhe alterne fanno le targhe alterne ma di solito la gente ha due macchine una pari e una dispari e quindi il traffico non scende a Roma io non so nelle altre città perché lavoro durante la settimana a Roma quando ci sono le targhe alterne non si nota letteralmente la mancanza nemmeno di una macchina perché non lo sanno che ci sono le targhe alterne soprattutto da quando c'è il super commissario tronca il super commissario tronca è quello che non essendo stato eletto da nessuno è andato a sostituire il sindaco Marino che oltre ad alcune cene non giustificate aveva il grave torto di essere stato eletto dai cittadini ma di non piacere al presidente del consiglio che non è stato a sua volta eletto e quindi quelli che sono stati eletti gli stanno sul cazzo lui preferisce che a governare preferisce che a governare siano persone non elette ma scelte da lui infatti la riforma costituzionale questo prevede che i deputati se li nomina lui con i capilista bloccati e i senatori li fa nominare dai consiglieri regionali e dalle province autonome di Trento e Bolzano il super commissario tronca dunque si insedia intorno mi pare a novembre non so se vi ricordate il giorno in cui ha annunciato che era stato scelto l'entusiasmo proprio il trasporto sprizzava gioia da tutti i pori e faceva il prefetto a Milano l'aveva messo lì Maroni non era mai stato a Roma e quindi giustamente hanno scelto lui che essendo campano e avendo lavorato a Milano era perfetto per Roma e lui disse sono stato scelto quasi piangeva praticamente e Renzi nel frattempo diceva adesso vedete che Roma la sistemiamo in 448 perché arriva un dream team il dream team di tronca ha tenuto banco per due mesi non le ho portate ma ho una cartellina intitolata dream team era troppo pesante non riuscivo a farla stare in valigia per due mesi è stato annunciato un dream team di cui avrebbero fatto parte i cervelli più sviluppati dell'intero orbe terraqueo dopodiché è arrivato tronca con due o tre vice prefetti da Milano fine dream team non c'è stato a un certo punto non pioveva e sono arrivati anche gli storni gli storni sono un'emergenza atroce imprevedibile migrano sempre negli stessi giorni sulle stesse rotte dalla notte dei tempi e cagano purtroppo passando cagano siccome sul lungo tevere ci sono molti alberi cagano preferibilmente sul lungo tevere se non piove è un casino se piove è una catastrofe di dimensioni inumane cosa fare contro gli storni ci sono dei sistemi a ultrasuoni e altri sistemi molto usati che però non vengono usati perché Roma non ha più nemmeno gli occhi per piangere si sono mangiati tutto non c'è più niente non c'è più nulla le ultime tangenti le hanno fatte sull'appalto per riempire le buche sono appalti da mille euro le tangenti sono cinque euro dieci euro anche il mercato della tangente si sta riducendo ai minimi termini ci sono dei pezzenti ormai che si scambiano le tangenti non c'è più niente deve restare intatto il principio che ogni appalto deve avere una tangente quindi fosse anche cinque euro però li vai a prendere che magari spendi quindici euro di taxi per andare a prendere cinque euro di tangente ma perché se no si crea un precedente se casomai capitasse un appalto senza una tangente poi è finita salta il sistema implode ovviamente quindi per mantenere fermo il principio si va a prendere anche la tangente di cinque euro anche se non la chiedi te la danno proprio perché dicono pare brutto poi si fanno le cose regolarmente chissà dove andiamo a finire ma questa è Roma quindi il Dream Team è stato travolto dall'emergenza Storni c'erano gente che andava in bicicletta in macchine in motorino si schiantavano desideravano le buche addirittura perché il patinoire della merda degli Storni non lo auguro al vostro peggiore nemico si perde completamente il controllo peggio che su una pista di patinaggio e il super commissario super tronca non sapeva con quell'aria così smarrita come fare bene perché vi ho parlato del super commissario tronca perché quando è arrivata l'emergenza smog ha fatto le targhe alterne primo giorno ha deciso le targhe alterne ma si è dimenticato di dirlo ai giornali il giorno prima ai telegiornali per cui ci sono state delle giornate di targhe alterne in cui che ci fossero le targhe alterne lo sapeva solo tronca perché non l'aveva detto a nessuno e quindi ognuno usciva con la sua targa del resto non c'era nessuno che controllava quindi nessuno ha rischiato multe per carità poi di solito quando ci sono le targhe alterne bisognerebbe assicurare il trasporto pubblico a Roma non esiste il trasporto pubblico sono varie linee di metropolitana ogni tanto non funziona la prima ogni tanto non funziona la seconda quando funzionano si staccano gli sportelli durante il si creano quei risucchi tipo l'aereo di Fantozzi per cui si è deciso di lasciar perdere e poi ce n'è una in fase di costruzione da 25 anni la metro C ogni tanto qualcuno mette dei cartelli dice ma la state costruendo o la state cercando no? perché gli scavi non finiscono mai quindi le targhe alterne le targhe alterne senza i mezzi pubblici meno male che non le sa nessuno e continuano tutti a girare in macchia altrimenti ovviamente nessuno andrebbe da nessuna parte e hai voglia a licenziare in 48 ore i furbetti del cartellino che non vanno a lavorare al ministero se gli dai pure l'alibi che non sanno come arrivarci al ministero siamo fottuti in quei giorni il governo promise tavoli summit vertici super vertici misure straordinarie piani Marshall anti-smog miliardi pronti subito sapete questi titoli come quelli che vi ho letto sono ginnici atletici subito immediato fatto è tutto un agitarsi un moto perpetuo il ministro Galletti premio Attila credo sarà il premio Attila 2016 aveva detto sono miliardi pronti subito dopodiché per fortuna ha piovuto finito tutto piani Marshall vertici summit miliardi subito niente alla prossima siccità ricominceranno a smerdare gli storni se non sono ancora andati a cagare da un'altra parte e le città impazziranno di nuovo di smog con lo solito tir tran tran delle targhe alterne eccetera che durano dal 1983 è l'unica idea geniale che viene ai nostri amministratori quando non piove le targhe alterne per il resto zero assoluto quindi la legge sui furbetti del cartellino non esisteva i piani mirabolanti anti smog non esistevano ma attenzione non so se l'ho portata perché vi ricordate che cosa è successo a Colonia a Capodanno Colonia a Capodanno in concomitanza con l'arrivo di migliaia di profughi dalla Turchia ci fu un tragico evento proprio la notte di Capodanno quando molte donne a Colonia furono molestate sessualmente da e anche in altre città tedesche alcune aggredite altre molestate verbalmente altre anche con 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 gesti alcune insultate altre rapinate vicino alla stazione durante un assembramento proprio nella piazza davanti alla stazione notizia notizia assolutamente grave notizia assolutamente da dare notizia assolutamente da capire saranno stati veramente i profughi che fuggono dalla guerra in in Siria ai quali avendo diritto di asilo la Merkel ha dato asilo ad architettare questa cosa o saranno stati altri e a un certo punto si legge donne molestate c'era un piano Germania sotto shock abusi di massa in altre città tedesche ma anche in Svizzera e in Austria stampa le molestie sbarcano in Italia la polizia crucca manganella in ostupro gli aggressori di colonia guidati da una mente un mese dopo si è scoperto che i casi di molestie erano stati opera di una dozzina di persone è una notizia certo che è una notizia anche una sola donna molestata è una notizia forse anche al polo nord forse anche dall'altro capo del mondo ma la domanda è e questo non riguarda soltanto l'Italia la domanda è ma non sarà che qualcuno parlando di migliaia di molestatori che si avventavano su migliaia di donne con un regista occulto c'era un piano dice il messaggero c'era una mente dice il giornale ci sarà dunque una centrale una cabina di regia che dice tu molesta in piazza Duomo tu vai a molestare piazza Castello tu invece prendi piazza della stazione una spettere della molestia tutta gestita da questi profughi no? si sono fatti migliaia di chilometri a piedi rischiando prima di annegare poi di morire di fame poi di essere fucilati di finire impigliati nei vari fili spirati e nei vari muri che vengono eretti e poi una volta arrivati lì cominciano a dirigere il traffico delle molestie ecco io ho come l'impressione che sia stata montata una gigantesca opera di disinformazia per sputtanare la Merkel che in un'Europa di inetti tremebondi cialtroni si è comportata da statista e ha detto qui c'è un'emergenza e sono milioni di persone cosa facciamo? o gli spariamo o facciamo entrare chi ne ha diritto naturalmente c'è modo di farli entrare li fai entrare avendo uno stato efficiente li fai entrare voi sapete che la Germania sta già creando posti di lavoro fra i tedeschi con le scuole di lingua tedesca e di arti e mestieri ai profughi siriani ha creato centinaia di scuole di lingua tedesca e di arti e mestieri ai profughi siriani e sta dando lavoro a un sacco di tedeschi che insegnano la lingua e il lavoro ai profughi in un paese che è quasi a piena occupazione infatti da noi ci sono giornali che non contenti di sparare cazzate sull'Italia le sparano anche sulla Germania perché considerano la Merkel una matta non avendo mai saputo fornire al problema dell'immigrazione una soluzione alternativa perché se arrivasse Hitler e dicesse ci vuole un'altra soluzione finale sarebbe una soluzione alternativa drammatica criminale da Norimberga 2 ma sarebbe una soluzione alternativa ma guardate che l'altra soluzione è solo quella della Merkel fare entrare quelli che ne hanno diritto e cercare immediatamente di dargli un lavoro onde evitare che diventino dei terroristi noi invece abbiamo degli astutissimi politici degli astutissimi media che per evitare che il terrorismo faccia nuovi proseliti hanno deciso che appena arrivano intanto non gli diamo nessuna moschea così li facciamo subito incazzare poi li insultiamo anche un giorno sì e un giorno pure così li facciamo incazzare anche di più poi gli diciamo che noi siamo in guerra con l'islam che è una guerra di religione così loro immediatamente si sentono dall'altra parte e sanno che non potranno mai parlare con noi poi gli diciamo anche che la Fallaci aveva ragione Fallaci mi spiace dirlo ma è quella che diceva che se avessero fatto nella suo comune toscano una moschea a Lecce avrebbe pisciato e poi aggiunse che era giusto andare a bombardare l'Iraq e l'Afghanistan e tutto il bombardabile perché non si accontentava dell'Evrebbe steso anche un po' il fronte che è poi esattamente quello che è stato fatto e infatti grazie a quei bombardamenti noi oggi abbiamo creato l'Isis e gli abbiamo regalato migliaia di adepti in tutto il mondo che prima non c'erano e abbiamo decuplicato il numero degli attentati negli ultimi 15 anni da quando abbiamo adottato la ricetta della Fallaci io sono un grande stimatore della Fallaci per come scriveva ma quando purtroppo ha sbagliato clamorosamente la ricetta l'ultima cosa che oggi mi sentirei di dire è che aveva ragione la Fallaci mi dispiace scriveva bene ma scriveva bene delle gran cazzate mi dispiace quindi delle tre grandi notizie che hanno monopolizzato l'informazione a Capodanno ce ne fosse stata una che era vera la spectre mondiale delle molestie sessuali falso 10-15 persone giustamente in galera ma non la spectre 10-15 persone a Colonia del resto d'Europa piccoli sporadici casi segnalo caso mai qualcuno se lo fosse dimenticato che in Italia i due terzi delle molestie sessuali e danni di donne avvengono dentro le mura domestica a opera di mariti o fidanzati a scanso di equivoci ci sarà una mente non lo so sono tricolori i due terzi delle molestie sessuali ancora qualche primato riusciamo a conservarlo se gli vuole ecco io penso che per concludere in un periodo in cui ah no scusate volevo dirvi ancora una cosa questa sera i i siti registrano quella che viene chiamata la polemica il caso è che in realtà non è affatto una polemica Milena Gabanelli ha in programma per domenica una puntata di report che riguarda una delle banche famose decotte popolare di Vicenza popolare di Vicenza adesso sapete è stato il dissesto poi c'è stato tutto il tentativo di salvarla che è in corso a Gabanelli fa una puntata per fare le pulci al nuovo establishment della banca popolare di Vicenza e ha ricevuto questa lettera e gredi signori vi invitiamo a valutare anche sul piano legale l'opportunità di differire la puntata della trasmissione report dedicata alla banca popolare di Vicenza a data successiva al 30 aprile 2016 una volta completata l'importante operazione di ricapitalizzazione in corso lettera firmata dal capo degli affari legali della banca popolare di Vicenza destinata al direttore generale della RAI campo dall'orto al capo dell'ufficio legale della RAI al direttore di RAI 3 Dari a Bignardi all'autrice e conduttrice di report Milena Gabanelli è una richiesta di bloccare la puntata di report dedicata alla banca popolare di Vicenza perché non intendiamo entrare nel merito di scelte contenuti editoriali ma il servizio si colloca nel pieno dell'aumento di capitale dell'offerta pubblica di sottoscrizione che è necessario completare entro il 30 aprile quindi si teme che quel servizio possa essere interpretato in modo distorto o errato dal pubblico cioè temono che il pubblico capisca il servizio e quindi in sostanza interferisca con l'operazione di collocamento nel frattempo l'aumento di capitale da un miliardo e mezzo destinato a traghettare in borsa la banca è slittato alla seconda metà di aprile ma la popolare non ha cambiato posizione la Gabanelli ha risposto telegraficamente così dico che in vent'anni di report non mi era mai stata fatta una richiesta del genere credo che quando qualcuno chiede soldi tanti soldi al mercato sia dovere del servizio pubblico fargli le pulci questo è un caso estremo ovviamente un'azienda privata che chiede di non occuparsi di lei all'informazione perché l'informazione potrebbe danneggiare il collocamento in borsa la risposta la risposta è ma l'informazione serve proprio a informare i cittadini sugli eventuali rischi di comprare certe azioni anzi se l'informazione avesse fatto il suo dovere quando queste banche decotte vendevano i loro prodotti finanziari di merda a pensionati vecchietti dicendogli investimento sicuro e poi questi questi poveracci si sono ritrovati con un pugno di mosca in mano con della carta straccia probabilmente molte persone avrebbero evitato di metterci i loro soldi e non sarebbero finite sull'astrico è la storia di Banca Etruria è la storia di Popolare di Vicenza di Banca Marche eccetera ma questa idea che l'informazione non deve disturbare sta passando sta passando dappertutto quando dovresti informare sul collocamento in borsa di un prodotto finanziario se non prima che venga collocato in borsa loro vorrebbero che i cittadini si pigliassero quelle robe e poi dopo eventualmente si spiegasse ai cittadini che rischio correvano quando ancora potevano evitare di correrlo è esattamente la stessa cosa di quando si sospende l'informazione in nome della par condicio nell'ultimo mese di campagna elettorale e ricordate che qualche anno fa chiusero addirittura i talk show adesso non c'è più nemmeno bisogno di chiuderli nel senso che ne sono rimasti pochi fanno poco ascolto vengono delegittimati continuamente dal presidente del consiglio dai politici che però ci vanno sempre chiusi perché si diceva beh non è bene informare sulla politica proprio a ridosso delle elezioni magari dopo come magari dopo io te lo devo dire prima delle elezioni chi è degno di avere il voto dei cittadini e chi non lo è dopo è tardi dopo i cittadini potranno venire da me e dire eh se me lo dicevi prima magari io non votavo ho saputo dopo l'informazione a babbo morto è una tentazione continua e il sistema sta andando verso quella direzione il caso di Vespa Errina Junior è emblematico l'altro giorno qualcuno ha scritto che io ho difeso Vespa io non ho fatto difeso Vespa mi sono meravigliato che il giorno prima che andasse scusate il giorno stesso in cui poi la sera sarebbe andato in onda l'intervista di Vespa al figlio di Errina c'era un'infinità una raffica di dichiarazioni di politici i quali dicevano vergogna intervistare Rina è un mafioso come ti permetti e poi capì a un certo punto ma che sono impazziti io ho letto una splendida intervista di Indro Montanelli a Genco Russo io ho visto delle splendide interviste di Enzo Biagi a Luciano Liggio e a Michele Sindona gente che aveva le mani che grondavano di sangue molto più del figlio di Errina ci sono stati giornalisti che hanno intervistato Hitler ci sono giornalisti che hanno intervistato Mussolini ci sono giornalisti che hanno intervistato Fior di Criminali e Zavoli Sergio Zavoli ha fatto uno spettacolare io me lo ricordo voi siete quasi tutti molto più giovani di me magari non ve lo ricordate si chiamava La Notte della Repubblica era un reportage che è andato avanti sulla RAI per diverse settimane ha intervistato tutti i brigatisti che hanno insanguinato l'Italia negli anni del terrorismo certo chi se li vedeva in televisione ed aveva avuto dei parenti uccisi ci rimaneva male quindi io sono perfettamente d'accordo sul fatto che le vittime della mafia hanno il diritto anzi il dovere di essere schifati nel vedere in televisione Fior di Rina ed è meglio che non lo vedano ma non esiste che qualche politico può decidere addirittura chi deve essere intervistato e chi no ma chi l'ha detto che i cattivi non si intervistano i cattivi quando vengono ben intervistati con le domande giuste sono molto più interessanti dei buoni perché perché di solito i buoni hanno meno cose interessanti di raccontare dei cattivi e ci sarà cinico dirlo voi tra un'intervista a Hitler e un'intervista a madre Teresa di Calcutta che cosa che cosa vi leggereste prima io sarò un pervertito ma subito Hitler se le domande sono quelle giuste invece invece i politici hanno deciso che non andava intervistato allora io ho fatto un pezzo per dire aspettiamo vediamo magari Vespa ci sorprende e una volta nella vita fa le domande è vero che mancando l'abitudine può essere che non gli vengano però metti caso a parte che il plastico stavolta la portava a Rina e quindi era interessante già per questo invece hanno deciso prima di vedere la trasmissione che la trasmissione faceva schifo e dopo la trasmissione pochi hanno giudicato il comportamento di Vespa e la qualità dell'intervista la Maggioni è andata davanti alla commissione di vigilanza e ha detto non c'è dubbio quello intervistato era un mafioso ah però chi l'avrebbe mai detto ci voleva il presidente della RAI per fare una scoperta del genere pure Luciano Liggio era un mafioso ed è andato in onda sulla RAI intervistato da Enzo Biagi e alla fine la gente ha capito chi era Luciano Liggio perché lo scopo dell'intervista è questo non è uccidere l'intervistato e non è neanche fargli uno spot lo scopo è far capire alla gente chi è Luciano Liggio dopodiché se lo conosci lo eviti ma lo devi conoscere se non ti piace cambi canale ma è un servizio pubblico anche intervistare i cattivi il male va investigato va conosciuto va mostrato poi parliamo delle domande che Vespa ha fatto anzi non ha fatto ma non c'entra niente sapete qual è il risultato finale di questa polemica perché questi sono bravi sono mica come Berlusconi che andava a Sofia e diceva non voglio più vedere Santoro Luttazzi e Biagi e il giorno dopo nessuno li ha più visti questi sono molto più bravi sono molto più furbi sono molto più sudoli non diranno mai Renzi non andrà mai in televisione a dire non voglio più vedere Giannini però vi assicuro che da settembre voi Giannini non lo vedete più ha fatto una riforma della RAI dove ha mantenuto intatta la legge Gasparri quella brutta legge su cui abbiamo fatto tanti girotondi tante cose quella brutta legge che era brutta finché c'era Berlusconi poi quando sono arrivati gli altri che l'hanno conservata è diventata insomma una bella leggina ecco naturalmente stabilisce che il governo è il padrone della RAI e mentre prima c'era un consiglio di amministrazione che contava ancora qualcosa c'era un presidente oltre a un amministratore un direttore generale adesso c'è un amministratore delegato che fa tutto lui con pieni poteri chi l'ha scelto guardatevi le foto della Leopolda sembrano i fidanzatini di Peinè Campo dall'orto è un Leopoldino della prima ora ed è il direttore generale della RAI e non bastava ancora avere preso il pieno potere non bastava ancora avere nominato direttore di RAI 1 il vice di Leone quindi stessa roba direttore di RAI 2 la fondatrice di Magnolia insieme a Giorgio Gori altro Leopoldino amico di Renzi che fa il sindaco di Bergamo adesso e a direttore di RAI 3 Daria Bignardi moglie di un giornalista che quando vede Renzi lo saluta ciao capo non bastava ancora questo ieri con la scusa del caso Vespa hanno annunciato che d'ora in poi ci sarà un controllo del direttore generale sui contenuti dei singoli programmi scavalcando le autonomie dei direttori di rete dei capi struttura dei responsabili dei processi dei programmi eccetera eccetera questo hanno stabilito ieri quindi per il fatto che Vespa cioè l'uomo più obbediente agli ordini dei governi tant'è che non glieli devono nemmeno dare li sa prima li anticipa hanno deciso di dare gli ordini a quei pochi che ancora non obbediscono io lo trovo il delitto perfetto quindi questo vale per la televisione e per i giornali è appena successa una cosa che c'entra molto col caso Gabanelli una candidata di Roma non mi interessa di che partito ha detto che se diventasse sindaco di Roma cambierebbe i vertici della CEA e cioè la società municipalizzata che si occupa di acqua e energia tutti i candidati a sindaco di Roma dovrebbero dire che cosa intendono fare delle municipalizzate lei l'ha fatto sulla prima pagina del messaggero è uscito un titolo che diceva la raggi parla i romani perdono 71 milioni perché tre giorni dopo quell'annuncio della raggi il titolo della CEA ha avuto una flessione in borsa poi ha avuto una risalita se fosse stato per le cose che ha detto la raggi il titolo sarebbe caduto il lunedì in borsa non il mercoledì visto che la raggi aveva parlato la domenica da Lucia Annunziata no anzi da Maria Latella difficile che aspettino tre giorni per preoccuparsi di quello che ha detto la raggi ma soprattutto anche se fosse ma che cosa deve fare un candidato sindaco di Roma non deve parlare di quello che vuole fare della CEA perché il titolo va giù ma soprattutto lo sapete di chi è questo giornale il messaggero è di Francesco Gaetano Caltagirone e perché è così appassionato alla CEA perché è azionista è il primo azionista privato dopo il comune con il 16% delle quote ma nell'articolo non c'è scritto nell'articolo c'è scritto che a perdere soldi sono i cittadini romani ma i cittadini romani non sono azionisti della CEA gli azionisti della CEA sono il comune e il il signor Caltagirone e solo chi ha venduto azioni in quei giorni ha perso dei soldi nessuno perde soldi quando i titoli vanno su e giù è tutto virtuale però i romani che hanno letto il messaggio hanno detto cazzo ho perso un sacco di soldi ne sono manco accorto staracci e a guardarsene bene perché questa ogni volta che parla parte via il portafoglio chi ha persi Caltagirone non li hanno persi i cittadini romani del resto quando il titolo è risalito il messaggero non ha scritto i cittadini romani hanno riguadagnato posizioni a venire in mente quella battuta non so se avete presente Proietti che fa l'avvocato col suo cliente il cliente è un contadino Proietti l'avvocato esamina le carte perché il contadino è in causa con dei cattivi che gli hanno fatto un torto lui gira le carte e fa qua se li inculamo qua se li strainculamo ma qua se li inculamo proprio qua invece te se inculano qua te se inculano qua se li inculamo qua te se inculano e qua te se inculano tant'è che l'altro a un certo punto dice avvocato ma com'è che quando c'è da incularseli siamo in due e quando c'è da prenderlo in culo sono da solo il caso Acea è identico allora voi vedete che Gabanelli non può fare un servizio perché c'è il collocamento in borsa un politico di opposizione non può dire che vuole rinnovare il management di una società municipalizzata nella città di cui si candida a sindaco perché c'è il titolo in borsa e queste pretese non sono strane sono comprensibili soltanto che nei paesi seri sarebbero talmente irricevibili che verrebbero rinviate al mittente all'istante da noi come vedete hanno libero accesso e quindi io penso che si debba essere preoccupati per il sistema dell'informazione che non ci vede già ben piazzati nelle classifiche adesso vi avevo promesso che vi leggo la prima pagina di domani così intanto vedo anche dare via libera perché mi stanno chiedendo della redazione quindi la prima pagina è questa c'è un mio pezzo che si intitola trivegliamo l'italicum ma dato che si rivolge a un soggetto neutro anzi un complemento talicum è neutro è latino um è neutro quindi non c'è sessismo poi c'è un inserto a questo si riferisce l'articolo speciale perché da domani si raccolgono firme per il referendum contro l'italicum e li spieghiamo esattamente e cosa succede se si riesce a togliere i due punti incostituzionali dalla legge elettorale che se invece dovesse rimanere senza il referendum sarebbe quella con cui voteremmo quando ci toccherà di andare a votare poi c'è il caso dei petroli così l'uomo della Finocchiaro aprì la commissione a mister Guidi poi c'è Regeni dove finalmente 65 giorni dopo il delitto l'Italia si è decisa a richiamare l'ambasciatore per protesta contro il regime che ci sta prendendo per i fondelli da parecchio tempo poi vabbè c'è un'intervista Luca Zingaretti che sta con i notriv per il referendum c'è un pezzo sulla corsa farsa di Passera Solitario che sapete sta correndo a Milano insalutato ospite eppure con grande entusiasmo continua a combattere come se fosse in testa poi c'è una vignetta di Vauro sapete che il Papa oggi ha fatto un'apertura divorziati ha detto che il sesso non è un male ma è un dono di Dio allora c'è Dio che dalla nuvola gli dice ho letto che dici il sesso non è male e tu come fai a saperlo? e il Papa risponde ti giuro solo per sentito dire buonanotte buonanotte grazie a tutti 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 Grazie a tutti